sai che cosa penso che non dovrei pensare che se poi penso sono un animale e se ti penso tu sei un'anima ma forse questo temporale che mi porta da te e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto fuga torno sempre a te che fai rumore, sì, e non so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare questo silenzio naturale tra me e te ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare questo silenzio naturale e non le voglio fare a meno oramai di quel bellissimo rumore che fai bravo, bravo, mamma mia grazie ti è piaciuta questa esibizione? bene, perché potrai vederle tutte e potrai vederle tante altre iscrivendoti al canale di The Voice grazie 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 grazie